Music Machine in questa serata aprile post pasquale, la serata di martedì 10, ogni tanto ce lo ricordiamo anche noi perché ci sfasiamo temporalmente, sarà l'ora legale, Andrea cosa sarà? Sarà la primavera. Sarà la primavera, e beh che non si vede ancora tantissimo, sembra un autunno ma... Comunque insomma, speriamo bene. Parliamo di musica con Andrea, nostro ospite questa sera negli studi di Music Machine, che ormai è più di un ospite, si può dire che sia un amico del nostro programma perché ci porta da tempo, da quando è nata, si può dire, questa trasmissione che più di un anno fa, so che ti stai commovendo ma io giro il falzio nella piaga, il falzolettini e Clines a GoGo e appunto le testimonianze musicali del Centro Musica. Il gruppo di cui stiamo parlando adesso è molto particolare, è un duo, no Andrea? Sì, avete sentito prima dello stacco i Latin Family, sono un gruppo particolare, sinonimo del trentino che cambia, credo che anni fa sarebbe stato impossibile ascoltare queste sonorità qua in città, in regione, e loro sono i Latin Family, è un duo di giovanissimi ragazzi sui 18-20 anni, i loro nomi d'arti sono Aven Joe, che è il DJ di questo duo, quello che ha prodotto poi le basi, praticamente le musiche originali di questi brani e che ha anche poi messo la sua voce sui pezzi, e Don Peluccio che è il suo collaboratore, rapper freestyle, che ha dato il suo bellissimo contributo al progetto. Ecco, come dicevi tu, la cosa bella è anche appunto stornare che magari una volta un gruppo così in Trentino, non so se sarebbe mai stato questo signore di una società che cambia e che si esprime, no Andrea, anche attraverso la musica in maniera positiva, insomma. Esatto, loro sono proprio un gruppo che è un duo, insomma, che frequenta il centro musica già per il discorso sale prove e come voglio sottolineare, insomma, che questo centro è importante, è aperto da 5 anni in città, a Trento, in via Fermi 26, e appunto dà la possibilità a tutti i giovani musicisti di disporre di una sala prove attrezzata per crescere musicalmente, e poi qualcuno di questi gruppi sceglie anche di fissare delle idee del momento in una registrazione. Ecco, se il primo pezzo che abbiamo ascoltato di questi ragazzi arriva ai contorni del reggaeton, questo ha una sfumatura hip hop. Questo sì, il secondo pezzo che vi faccio ascoltare della Team Family, per variare un po', è il loro cattivissimo, tra virgolette, hip hop. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora il gruppo con bocca di leone e pittola di mito Pa' quemarle lo neurone a lo ma' chiquito 19 anni ho tengo e molto in questo inscrito Sei che non mi ha provato, non mi ha parlato, non mi ha visto Si è che deve essere un hombre per il buco ore tu tajito Ponte frio, frio e dame lo che necessito Que causa il motivo pendiente lo che scrivo De salire al talcone e in la fronte pegate un tiro Que paso, gallo giro, il mondo è negro relativo Tu serai un volcán Si tienes odio pa' poten Dámelo a mi Si te rie de que el mundo Si se acaban los problemas Dejalo aquí No te tienes que preocupar Si tienes odio pa' poten Dámelo a mi Si te rie de que el mundo Dámelo a mi Si se acaban los problemas Dejalo aquí No te tienes que preocupar I said now Motherfucker, comienzo yo matando Tu vida, di mi vida Que en un juego jugando Me estoy controlando Y no sé por qué Matuche que aquí te enseño Cómo se canta el rap Yo no soy un bebé Ni vengo de un sueño de oro Dame lo que tiene Y gata tu tesoro Y me canto como un loro Y ya jodei el carpintero Yo meto terror Soy el papi de los cueros Un bandolero Y hablo solo con dinero Soy un tipo mantenido Y viajo cuando yo quiero Yo no respeto a nadie Pero me respeta mucho Soy el hijo de peco Motherfucker Don Pelucho El que bebe mucho Y solo hablo con cartucho Y lo gasto Yo lo grucho Y la carne siempre que entra Si un pein Dejo me pierde Me lo bajo con pimienta Don Pelucho Entra Y la fin representa Si tienes odio pa' potes Dame el rame Si te nieve que el mundo Dame el rame Si se acaban los problemas Déjalo aquí Te tienes que preocupar Dame el masaya Si tienes odio pa' potes Dame el rame Si te nieve que el mundo Dame el rame Si se acaban los problemas Dame el rame Te tienes que preocupar Dame el masaya Hasta el más duro en esta selva Un día lo casamos Te veré colando grasa Con abajo la brasa Esa boy no aquel Que ninguno reemplaza Veremos el que se pasa Con hablamos de una familia Sufriendo boca por masa Y aquellos que se tiren Se joden en la melaza Y oye whatsapp Aquí ya se rompió la taza A como con locura Caneque desde su casa O dale pa' atrás Pa' que se forme el desastre Te traigo lírica Viral que te jalan pasastre Pa' que llegue al hospital Con vomito y ataque Mientras yo Un pelucho me jadeo Un bateo Oye chamaquito De algo estoy agito Un consejo huele alto Gole rompo su culito Ese es mi mito El king con don peluchito El aloqueteado Si yo te mango ha calao Lo has te olvidado Esto es guerra declarao Andao cazando pecao Picho y no quiero fao Papao Usted está cagao Mire usted lo ha buscado Este es el dom Motherfuck Si tienes odio pa' poten Camelame Y si te miedo Que el mundo No me blama Así se acaban los problemas Dejarla aquí No te tienes que preocupar En el Masaya Oye Qui a Radio Dolomiti Che fai saluti Continui a salutare Le fan Le fan Le fan Tutte le fan Eh si le fan Chi si è appena connesso Chi si è appena connesso Ricordiamo che poi Sintonizzato La puntata si ascolta anche sul sito Di Radio Dolomiti E si trova anche spazio Comunque a Music Machine Anche sul sito di Andrea www.yoursound.it E qui si trovano anche le info Sui demo prodotti al Centro Musica Suoni particolari Dalle sfumature hip hop Per questi ragazzi Io direi Andrea adesso Se non ti dispiace Di tornare Agli Squirties Sì Se vuoi fare un po' Un balzo all'impietto Cosa dici? Perché no? Che discutiamo la traccia numero 2 Ricordiamo magari ancora Le coordinate di questa band Squirties Una giovane rock and roll band Da Borgo Valzugana Un demo realizzato Nei primi mesi di questo 2007 Ecco il tiro è molto Rock and roll No Andrea? Tutti in piedi sul divano Tutti in piedi sul divano Music Machine Anzi ti vuoi chiedere una cosa Andrea Per contattarti E venire a registrare Il Centro Musica In pratica i gruppi Cosa devono fare? Allora Come dicevo prima Il Centro Musica Si trova a Trento In località Clarina Via Fermi 26 È contattabile Trovate Purtroppo non sono preparato Col numero di telefono Al volo Ma lo trovate sicuramente Sull'elenco Attraverso il loro sito ufficiale Che è www.trentogiovani.it O altrimenti appunto Sul mio sito appena citato www.yoursound.it Trovate i miei contatti La mia mail E a fine pagina Della home page C'è tutto il riquadro Dedicato al Centro Musica Con indirizzo E numeri di telefono Quindi non è certo difficile Al giorno d'oggi Mettersi in contatto Fra mail Fax Cellulare Inter Non è più come una volta Quindi poche scuse Squirtis Music Machine Con Fabio Fino alle 21 Insieme Grazie a tutti 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 Prima che proprio Veramente Quando ho bisogno Di carica Lancio iTunes E li butto su E li butti su Brutalmente Dunque Andrea Si parlava Di concorsi Anche la scorsa volta Che sei venuto Qui da noi Si parlava di Rock Tragato Italia Che ricordo Che sabato prossimo Il 14 Se non vado errato Vivrà la sua fase Finale Proprio al Gasoline Di Trento Si è concluso Italia Wave Del quale tu eri anche Tra parentesi Fra i giurati C'è un altro concorso Diverso Sicuramente Sicuramente Lontanissimo Da rock Che è Trento Incanta Di cosa si tratta? Sono chiuse Proprio le Audizioni Se non sbaglio Esatto Fine settimana scorsa La settimana scorsa È stata tutta Interamente dedicata Alle audizioni Di questo concorso Trento Incanta Realizzato Da un'idea Della RBS Spettacoli In collaborazione Con il Centro Musica E con il Comitato Delle Feste Vigiliane E è stato proprio Pensato Di realizzare Per la prima volta Infatti Quest'anno si chiama Il primo festival Della Voce di Trento Un festival Dedicato A cantanti Che non Non cantautori Insomma Che cantano Di solito Nei karaoke Insomma Su basi Già pronte Su canzoni edite Famose Per premiare Proprio la più bella voce Di Trento Del Trentino Ecco Quindi sono arrivate Cover version Gruppi Scusami Andrea Solisti Di un po' tutte le età Esatto Di tutte le età Si sono iscritti Una novantina Di partecipanti E quindi Puoi immaginare Siccome questo Questo concorso Viene Suddiviso In due categorie C'è la categoria Conferme Che è riservata Agli over 25 E la categoria Diciamo Giovani Sotto ai 25 anni Dove appunto Interviene il centro musica Realizzando per loro Poi un Un corso Un piccolo corso Di formazione Gratuito Prima di partecipare Alla finale Che sarà fatta Durante le feste Vigiliane Credo il 24 di giugno In piazza Fiera Quindi è una bella cosa Una bella cosa Davvero E appunto È il centro musica Che come Ricordiamo ancora Era un po' Il fulcro Di questa Iniziativa Di questo concorso A proposito di voci Di cantautori Ci hai portato Un pezzo Un po' particolare Che si riaggancia Al Trentino Attraverso alcuni Giri labirintici No Andrea? Sì esatto E niente Io quest'anno Mi è capitato Nei vari lavori Che faccio Di fare Un demo Un provino A una cantautrice Di Trento Silvia Caracristi Che secondo me Insomma Ha realizzato Anche se velocemente Proprio un provino Con delle sue cose Molto 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 belle E come tutti i lavori Che realizzo Io collaboro Da diversi anni Con una etichetta Discografica indipendente Di Orvieto Che è la mia città natale Carpe Diem E sottoponendo Questo lavoro In particolare A questa etichetta È piaciuto molto E quindi attualmente Posso darvi l'anteprima Che si sta lavorando A una produzione discografica Di questa ragazza Per cui Questo provino Che avevo pensato Di portare qui In radio Per evidenti Problematiche Di copyright Non ho potuto portarlo E per Sopperire a questa mancanza Ho portato invece Il primo singolo estratto Dal cd Che uscirà Credo Entro la fine dell'anno Di un cantautore Toscano Al quale ho lavorato Che si chiama Libero E appunto Ho portato questo Primo estratto In anteprima qui in Trentino Dal titolo I love you Perfetto Quindi Libero Qui a Music Machine Qui a Radio Dolomiti Con Fabio e Andrea Sul viale che porta da te Parole D'amore Che mi spiegano La strada Qual è E mi accorgo Che Sta nascendo Dentro me Un fiore Un fiore colore Più rosso del cuore Un fiume Che adesso È più mosso Del mare I love you I love you E mi sto innamorando Di te I love you Così grande Dentro me Adesso sei E ho capito Come mai Il mio cuore Canta I love you Amo te C'è ancora L'estate Nel giardino Di casa Tu Mi fermo A guardare Una rondine Che vola via O mi accorgo Che Stai correndo Verso me Su foglie Pagnate Dal sole Scaldato E intanto Contento Io sento Soltanto I love you I love you E l'amore Mi porta Da te I love you I love you Così grande Dentro me Adesso sei E ho capito Come mai Il mio cuore Canta I love you Amo te E il cielo E il cielo è come noi Libero Libero Piano le nuvole Passano Passano Oh I love you I love you E mi sto innamorando di te I love you I love you Così grande Dentro me Adesso sei E ho capito Come mai Il mio cuore Canta I love you Amo te I love you 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 Io amo te I love you I love you I love you Tony super romantici Zarrigliani Come ricordavi tu Andrea Questo cantautore E poi c'è anche Questa cantautrice trentina Che ci farai ascoltare Presto Ricordiamo ancora il suo nome No Andrea Si Silvia Caracristi Attualmente è in produzione Il suo lavoro Insomma delle sue canzoni Perfetto Prima di salutarci Ovviamente ascolteremo Anche un altro pezzo E soprattutto Andrea Ci diamo appuntamento A quando Con la tua prossima apparizione A Music Machine Ma guarda Considerando che Nel mese di aprile Ho in programma Di curare Altri due Gruppi trentini Probabilmente In maggio Potrò tornare Con due o tre Nuove realizzazioni Senza dimenticare Ovviamente Che questi gruppi Che ci hai portato stasera Poi entreranno anche Nella rotation Stabile Ovviamente Perfetto Saranno tutti contenti Li saluto tutti Quelli che sono all'ascolto In questo momento Certo Salutiamo i ragazzi Che sicuramente Ci staranno ascoltando E chiudiamo Proprio con Latin Family Questo duo Della Repubblica Domenicana La curiosità Un po' di questa sera Ma non è certo Per essere esotici Perché i ragazzi Sono davvero Molto bravi Il pezzo L'ascoltiamo Andrea Come si intitola Allora Torniamo sul Raggaeton E ho scelto per voi Sasson Perfetto Spero di pronunciarlo Correttamente Speriamo Perché il mio inglese È precario Sicuramente Molto peggio Molto peggio Si parla Di linguaggio Della Repubblica Domenicana Ancora peggio Siamo perduti Ciao a tutti Grazie Andrea Di essere venuto qui Grazie a voi Grazie a Fabio Grazie alla radio Radio Dolomiti Che mi dà questa possibilità Perfetto Grazie Andrea Noi salutiamo I nostri ascoltatori Appuntamento Alla settimana prossima Martedì prossimo Sulle frequenze Di Radio Dolomiti Ovviamente Come ogni martedì Dalle 20 Alle 21 Con Music Machine Il nostro indirizzo È Music Machine Presso Radio Dolomiti Ovviamente Via delle missioni africane 38 130 Ciao a tutti E tu sabes Que to solamente Lo hacen Locking Con Owen Joe El titanico Motherfuckers Un film di Un film di Room di Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.